Scoprirsi Stella a 33 anni non è proprio così per Karim Benzema, che etual lo è da tanto tempo, altrimenti non sarebbe il quarto massimo marcatore nella storia della Champions League a solo due gol dal terzo Robert Lewandowski e non sarebbe il quinto cannoniere del Real Madrid di tutti i tempi, anche lì il quarto Santillana è abbastanza a distanza di tiro. Numeri realizzativi che Karim Benzema ha ottenuto oltretutto giocando per la maggior parte con la maglia bianca nell'era di Cristiano Ronaldo, che è il fagocitatore massimo di reti e di record realizzativi, per cui stiamo parlando di uno che ha una dimensione internazionale al top del livello praticamente da quando ha iniziato a giocare a calcio. Poiché Benzema sia riuscito ad emergere anche individualmente e singolarmente nel momento in cui Cristiano Ronaldo ha lasciato la casa blanca e ha lasciato di conseguenza a lui il ruolo di primo finalizzatore, di prima stella dell'attacco, un pochino è vero. Perché Karim Benzema è sempre stato il perfetto cavalier servente di Cristiano Ronaldo, senza però lasciare da parte il contributo dato da lui in modo personale, altrimenti non parleremmo di queste cifre. Però nelle ultime due o tre stagioni Benzema è emerso prepotentemente, è emerso con i suoi gol, anche quest'anno supera quota 25 fra tutte le competizioni e l'obiettivo è quello di arrivare a 30. Ma soprattutto Karim Benzema si è imposto perché ha trovato la sua definitiva consacrazione nella completezza che lo ha sempre caratterizzato. Si può discutere sul fatto che Karim Benzema sia o meno il numero 9 più forte del mondo, in questo momento forse lo è. La dimostrazione è stata anche il gol determinante con cui ha salvato il Real Madrid contro il Chelsea, un gol tanto pesante quanto bello, perché quel controllo di fronte, come se fosse una mano guantata, non esce proprio dagli occhi. Ma ripeto, è la completezza di Karim Benzema il suo punto totale e quindi può essere o non essere il 9 più forte del mondo, ma sicuramente parliamo del centravanti più tecnico del mondo, del centravanti più utile del mondo, perché diventa un perfetto perno del sistema squadra, pur essendo poi quello che ti tira fuori dalle situazioni di pericolo, che ti vince le partite, detto in modo spiccio. E il fatto che sia un partecipatore assoluto del gioco viene sancito da un altro suo numero strabiliante nella carriera con il Real Madrid, perché nella storia del club madrilegno nessuno ha mai dato tanti assist, quanti ne ha forniti il centravanti francese, per cui quinto massimo goleador e miglior assist man nella storia del Real Madrid. Questi sono i numeri indiscutibilmente di una stella di prima grandezza che non abbiamo scoperto oggi, se conosciamo Karim Benzema da tempo, ma che oggi è arrivato veramente all'apice della sua espressione, quali possano essere gli orizzonti? Vediamo, perché qualche partita da giocare in questa stagione c'è ancora e qualche obiettivo da inseguire, obiettivi grandissimi. Karim Benzema ce l'ha.